ragazzi sono gasato oggi andiamo a fare un acquisto che era da tanto tempo che volevo fare perché mi sono stancato di suonare la chitarra con lo scotch sebbene sia la mia comosa signature però bisogna cambiare nella vita e d'oggi è il momento ma tu stai a cappello perché adesso vedo come sempre video col gatto ma ragazzi siamo appena giunti a destinazione diamo anche un ospite straordinario in esclusiva vediamo che cosa si comprerà il nostro gabrile tra l'altro la serie player questa quella comprata il chitarrista che suona con me col pistagliano tommaso e devo dire che suona suona bene ultimamente mi intriga tanto intriga veramente particolare sono che ti permette molto più di far sentire qual è il tuo modo di suonare il tuo tocco perché è molto più espressivo capito è forte non funziona per tutti i generi però veramente torna non ci ho dei parametri di giudizio su cui dico ok chissà mi piaceva molto il manico questa è molto come fare quasi una chitarra elettrica il manico c'ha questo taggnole è molto poroso abbastanza comodo devo dire appena l'ho presa mi è sembrato il manico confortevole non lo so almeno questa è l'impressione mia questa è già un ottimo spesso poi mi pareva davvero cusciato come ti ho detto altre volte chitarre però qua grosse che addirittura devo fare così non so vediamo che sensazione tira questa prima impressione allora manico quello un pochino più poroso forse è un pochino più comodo ma in realtà la forma del manico mi sembra molto similare sia a prima ma chitto mi pare che la testina è più a me piacciono i tasti belli definiti e ascolta a livello di comunque di avvolgimento di suono avvolgente di fa un bell'accordo di sol maggiore mi maggiore mi è sembrato forse c'è un pochino più di volume adesso io non vorrei dire una stupidaggine ma può essere sentirai già un suono di frequenze basse un pochino più avvolgente davvero consiglio è di suonarla un pochino più qua se lo vuoi sentire al top senti che le frequenze basse sono un po' più rotonde ecco lo si anch'io tra le tre ecco ti dico il vero quella che secondo me mi è sembrata più equilibrata è la transa mia opinione cioè il punto è questo allora io attualmente adesso come adesso cioè perché di ragionare in futuro quello che farò adesso non so però adesso come adesso devo so dire che la chitarra acustica la uso principalmente senza amplificatore cioè non è che la uso costantemente live se è così allora però ti devo fare una domanda allora perché sto cercando una chitarra amplificabile perché in futuro pensi di amplificarla sì esatto perché comunque se c'ho la necessità lo posso fare ok questo mi sembra un ragionamento piuttosto logico allora però se è così è necessario che anche se ora non sai perfettamente cosa farai però il preamplificatore deve essere buono che deve piacere perché se tanto la previsione è che un giorno lo userai no? sì 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 ho capito il ragionamento la transa acustica esteticamente non mi piace però c'è un bel sono dei tre il problema convinto di più allora il fatto è che a me mi dava gusto la spalla mancante perché potevi accedere ai registri più alti però tu dici ma anche magari che cazzo mi fai? sì la domanda è un po' questa cioè nel senso io ti posso dire ok mi è capitato delle volte di suonare io ho spalla mancante delle volte mi è capitato di suonare delle note sopra il dodicesimo con l'acustica però se lo paragoni al quantitativo dei volte che ho suonato sono note prima del dodicesimo non si paragona dopo è per questo che comunque ti dicevo prima valuta se anche tecnicamente ti trovi comodo perché comunque la chitarra acustica non deve avere solo un bel suono avvolgente ma deve essere anche una cosa che ti dà piacere tattile a suonare secondo me raga abbiamo preso sta chitarra presto nei palchi mi vedrete cavalcare mi vedrete cavalcare cavalcare il palco con questa chitarra del quale non mi ricordo il nome ma lo sai che io quando faccio questi acquisti ma è stanco di usare adesso la metto in macchina